te ne... cosa? neanche modo di forti oh sacca no non pensavo cazzo vanti cazzo sono vabbè non è attivo la sua vita ah, è attivarlo ebbè appunto se lo riattivano tanto di quell'inerte ci mettiamo al luce e si può fare quelli finestrini no, quello di me è... è vero quando tu hai visto è arrivato, raga ho una secchiare arrivo, arrivo, ci sono mi prendo solo il cibo, buono uno, se non due vado via secchiare ok, intanto ci partiamo eh... si, io non posso fare niente sono completamente baggato no, io moriamo da oggi ammazzo di colè non posso fare niente io... io... quattro giri per cui io... forza puttana, raga ma... siamo stoppato no, no non ve le vele io non posso salire su io... io... che cazzo fanno loro? ma c'è ho cambiato allora un attimo, calmi partiamola qua sopra c'erano di girellano per poterli sparare non vediamo me no io sto sotto qui se non andiamo giù io sto salendo da sinistro no, niente raga, uno sotto a secchiare eh... mi spogli pure uno sotto quindi a secchiare no, andiamo... no, siamo un po' andati andate sull'isola nascondetevi e... eh... forza ma dove cazzo sono saltati fuori questi ancora? ma poi che stiga ma poi